Sono appena arrivato al Comic-Con, il salone internazionale del fumetto e dell'animazione per scoprire se Gonagai è soltanto una leggenda oppure un essere umano in carne e ossa. C'è Gonagai a questa fiera o non c'è? Sì, voi ci parlate, sì. Ragazzi, non è che avete visto Gonagai? Ma che se non è stato? Qui c'è la biglietta del Gater, quindi se non lo sanno loro, c'è Gonagai alla fiera o è solo uno scherzo? Certo che c'è Gonagai alla fiera. E dov'è? Perché lo stiamo cercando. Vorrei saperelo anch'io. Sai dove è Gonagai? Di Gonagai? Conagai abbiamo vari prodotti, questo qui, Gater Leaker, abbiamo Gater One, Mazing Geyser, tutto in metallo. Poi abbiamo Devilman. Ti piacerebbe incontrarlo? Magari, è un mito, è una leggenda, non si può esprimere cos'è Gonagai. Alle tre e mezza sopra c'è. Allora, hai detto di andare sopra? Vieni. No. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo inseguito Gonagai per avere il suo fotografo, eravamo fuori di vista, niente di fatto. È entrato lì dentro ed è scomparso. Però, io forse conosco qualcuno che può aiutarci a farcelo incontrare. Comicon di Napoli, accanto a me Fabrizio Mazzotta. Storica voce del doppiaggio italiano perché è qui. Dopo tanti anni che avevamo annunciato finalmente questa nuova edizione di DVD di Goldrick, finalmente ce l'abbiamo fatta. I DVD sono completamente rimasterizzati, ricolorati e con un nuovo doppiaggio. Che non ho più il doppiaggio di trent'anni fa, ovviamente. Sono rimasti delle voci storiche Romano Malaspina che fa Actarus. Il dottor Proctone è sempre Ariozanuto. Questo ragazzo è Koji Caputo. Lady Gandale è Anadrese Eugenica e doppia anche la regina Emica che stava anche in giga robot d'acciaio. Maledetti esseri umani, vi sterriminerò tutti. Fabrizio, ascolta una cosa. Visto che sei così amico di Conagai, non è che possiamo combinare un'intervista? Non lo so, adesso domanderò a Go, vediamo se ve lo meritate. Ok, grazie Fabrizio, mi mandano a Anzotta. Ciao! Ciao!